Dal regista di Daredevil e Ghost Riot. E ora che farai? Ora vado a caccia. Scorampioni. Processati per crimini di guerra contro i musulmani postniaci. Sicuro che vuole andare a piedi? Certa volta è difficile sapere quando lasciare il campo di battaglia, no? Per alcuni soldati. Coronello Ford. La guerra non è mai finita. Cosa vuoi da me? Io voglio un trofeo. Robert De Niro e John Travolta. Uno contro l'altro. Vuoi la tua guerra? Vieni a prenderla. Telen Seda. Sabato alle 21.20. Raimund.